Buongiorno a tutti. In questi nostri appuntamenti mi pregerò di darvi in solo tre minuti delle bricioli di storia ebraica. L'emancipazione ebraica non è avvenuta parallelamente a quella italiana, cristiana e italiana, perché è stata sottoposta alle angherie e a una politica oppressive e schiavizzante da parte della Chiesa e dei papi che si sono succeduti nei vari tempi, nei vari secoli. La vera ventata di novità c'era stata con Napoleone che avendo in cordiale antipatia tutti quelli che cozzavano con la sua autorità ha incominciato a sminuire la politica ecclesiastica. Ma la vera emancipazione è avvenuta, non solo ebraica ma anche italiana, è avvenuta nel 1848 con Carlo Alberto. Già abbiamo avuto accenni nel Lombardo-Veneto dell'illuminismo austriaco, ma la scalà, l'illuminismo ebraico è avvenuto nel 1848, perché Carlo Alberto portava allo stesso livello sociale, politico, giuridico, legislativo, sia italiani che ebrei. Quindi le minoranze dovevano avere pari diritti e pari doveri e privilegi. Forse non tutti sanno che, mentre triunfava un analfabetismo disarmante quasi per il 60% sul suolo italiano, una ebrea nel 1877 a Firenze ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia. Ernestina Paper. Non un'italiana, non una cristiana, ma una ebrea. Una figlia del popolo del libro. Mentre tutti quanti sono stati, tutti quanti cristiani e italiani sono stati sottoposti a una politica oscurantistica che li teneva lì nell'angolo culturalmente, il popolo del libro che si è sempre dovuto adattare per la comunicazione, si è sempre dovuto adattare a una comunicazione diretta, ha dovuto studiare, leggere e industriarsi per poter meglio sopravvivere. Un ebrea consegue nel 1877 una laurea. Certamente avrà avuto una vita piuttosto difficile, non so quanto i baroni nei vari ospedali e nei vari congressi abbiano potuto mai farle fare quello che avrebbe voluto fare, ma c'è di fatto che Ernestina Paper ha rotto il ghiaccio. Mentre si scatenava in Italia il dissidio è bene o è male che una donna, un ebrea possa estragnarsi dal focolare casalingo. Tenete presente che il sionismo aveva portato una ventata di laicità, quindi gli uomini, quindi tutti gli ebrei erano portati a non tenere più in tanta considerazione la religione che bene o male gli aveva tenuti legati al ghetto. Edegardo Morpurgo nel 1904 inneggiò alla superiorità della donna ebrea che nonostante tenesse insieme gli elementi della famiglia e del focolare comunque aveva ottenuto i suoi diritti ed era nettamente superiore alle donne cristiane e agli uomini tutti. Ernestina Paperra